che ho e che sono più importanti di me perché poi li faccio fare, come diceva Renzo Livieri prima, li faccio fare le cose, io non penso che accentrare sia il vantaggio, ma il vantaggio è delegare e far fare le cose agli altri, è sintomo di forza delegare, chi accentra e vuol fare tutto lui, poi è chiaro che il timbro finale ce lo metto io perché è il ruolo, però se uno dice, come abbiamo anche sintetizzato prima, se uno dice cose intelligenti, se c'è un calciatore che parla nelle riunioni, si va lì e si fa vedere dieci minuti, un quarto d'ora di video, le pressioni, le pressioni sono state queste domenica, c'è qualcuno che deve dire qualcosa? Sì mister, perché se questo invece di stare così aperto, se la chiusura del tragitto corsa fosse quest'altra, sarebbe meglio, si va a vedere se dice che è giusto, bravo, è giusto, si fa così, per cui è un discorso di collaborazione, io e i miei collaboratori sono tutti i calciatori che io ho allenato quando sono diventato allenatore, Pane, Baldini, Martuscello, ne ho tentato di portare il più possibile perché li debbo ringraziare per quello che mi hanno dato in quel momento fondamentale lì e penso più o meno, qualche d'uno, di avercela fatta, però poi sono allenatori bravi. ...delle situazioni di gioco che lei delega in toto, direttamente a dei suoi collaboratori. Martuscello faceva la linea difensiva, bravissimo a fare la linea, sa molte più cose di me, per cui le faccio fare a lui, ne sa più di me. A volte si dice... Tu hai paura? Eh? Hai paura se poi dice più cose il secondo? No, no, anzi io sono... Ma se tu, se il tuo secondo sa più cose di te, ne dice più di te, devi prendere il tuo posto, tu devi andare a casa. Ma nel caso mio particolare... ...sì. ...